Allora, la campana è legata alle note musicali, alle sette note musicali. Questa qua è in re e che simboleggia il crepuscolo. Le sette campane simboleggiano le sette note musicali. Le sette note musicali simboleggiano un animale e ogni animale simboleggia a sua volta la cadenza della giornata, dalla mattina fino alla mezzanotte. Questo è il lavoro sostanzialmente che io ho fatto prendendo spunto dai capitelli dei monasteri gotici. Questo è il lavoro che io ho fatto.